Siamo stati un po' coglioni eh Perché me levo sti cazzo d'occhiali che se sono storti invece sono seduto sopra E gli devo fare giustà vaffanculo Siamo stati un po' coglioni perché avevamo la possibilità di trasformare un calcio di rigore E invece Olivieri, Marco Olivieri della Juventus se l'è mangiato Ma nel complesso ve devo dire la verità Secondo me hanno sicuramente meritato perché hanno creato più occasioni e hanno anche giocato meglio Ciao bella a tutti da me ovviamente finale terzo e quarto posto mondiale under 20 Italia-Equador o Ecuador-Italia cambia veramente ben poco non mi ricordo Posso dire una cosa? Hanno simulato per tutta la partita o quasi? Cioè per gran parte della partita soprattutto dopo il gol del vantaggio De Mina Che non ha attirato da Mina, ha attirato una caccoletta però sono passato in vantaggio nei supplementari Ma comunque anche prima ci sono state tante occasioni in cui Tocchetto, cascavettano Piagnevano, piagnevano, si rialzavano, insieme a mezz'ora, tre quarti d'ora Quello che simulava, cascava per terra Ma state a giocare a pallone o state a fare ballerine? Perché se state a fare ballerine è incontro, se state a giocare a pallone è in alto Se no andateci veramente a fare ballerine perché ci avete vent'anni e ancora dovete capirci un po' De come funziona il calcio ma a calcio sapete come si gioca? Soprattutto i difensori Semena, cioè volano proprio zampe come se non ci fossero domani Questo è anche il calcio Sono per il calcio pulito, per carità Però comunque, cioè se a ogni tocchetto Poi dici, se uno veramente entra per fa male È ovvio che te fai male veramente Ma se te sfiorano e caschi per terra e cominci a piagne come una bamboletta Cambia sport Ecco, questo è quello che penso io Detto questo, ripeto Ecuador è che secondo me comunque hanno giocato meglio e c'è da dirlo Hanno creato più occasioni Noi, qualcosa ovviamente, il nostro allenatore ha cambiato Ha fatto un po' di turnover, ha dato la possibilità anche a qualche altro giocatore Tipo Carnesecchi E comunque ragazzi, mi sembra veramente un bel portierino Portierino dell'Atalanta, se non mi sbaglio dovrebbe essere classe 2099 Robba del genere E là sbaglio il calcio di rigore decisivo Ma di che cazzo stiamo a parlare? Ha intuito il portiere dell'Equador Non mi ricordo come si chiama Si è lanciato, perfetto, piedi sulla linea Non come al mondiale femminile Si è lanciato, gli ha azzeccato l'angolo Parata perfetta seppure angolata Avremmo vinto Saremmo arrivati Voi dite, ma che cambia? Finale terzo e quarto posto Se arrivi terzo o quarto Cambia ragazzi È medaglia del bronzo Stai sul gradino più basso del podio Io sinceramente speravo di arrivarci Perché comunque il conto è di Sei arrivato terzo al mondiale under 20 E il conto è di Sei arrivato quarto Non si ricorda nessuno che sei arrivato terzo Qualcuno si potrebbe ricordare Domani poi per come siamo usciti Diciamo per come l'Ucraina ci ha eliminati De misura per 1-0 Insomma sicuramente fa male Forse non ci hanno messo un po' I nostri dico Non ci hanno messo un po' le palle Magari sta finalina la sentivano E non la sentivano Non è che gli faceva tanto la differenza E l'Equador si vedeva che voleva vincere Insomma i giocatori Ce li ha de qualità Si vedeva che erano giocatori tecnici Che sapevano comunque palleggiare Scambiarsi la palla Creare occasioni da rete e quant'altro Però boh l'ho visti proprio Mosci i nostri Questa è la La lettura della mia partita Mi fate sapere voi che cosa ne pensate nei commenti Mi piace? Commentate? Condividete? Iscrivetevi al mio canale Qualora non lo aveste ancora fatto Comunque onore Onore a sti ragazzi Perché secondo me hanno onorato Veramente il mondiale under 20 Domani c'è la finale Domani o domenica Domani No domani Domani finale Ucraina Corea del Sud E non viceversa Ma tanto cambia poco Chi vincerà secondo voi? Ci vediamo domani con tanti nuovi contenuti Vado a dormire perché sono stanco E ripeto Sono stati tutta la partita simula Per l'amadosca Dai su Ciao